Sono stati presentati questa mattina a Pescara i due progetti denominati Arcadia e Green Sport finanziati dalla Regione Abruzzo a cura dell'ambito ECAD 14 Alto Vastese con la collaborazione di Lega Ambiente e Associazione Dinamiche Inclusive DMC Costa dei Trabocchi ed Ecolan. I due progetti, è stato detto, perseguono l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio e il benessere dei giovani e dell'intera comunità del territorio del Vastese. Progetti Green Sport e Arcadia, entrambi finanziati dalla Regione Abruzzo, sono rivolti ai giovani dai 19 ai 30 anni più o meno, residenti sul territorio dell'ente d'ambito 14 Alto Vastese. Sono due progetti che, insomma, in modo complementare hanno l'obiettivo di valorizzare il territorio ed offrire ai giovani che vivono sul territorio l'opportunità di potervi rimanere partendo proprio dalla valorizzazione dei beni turistici, culturali e ambientali. Entrando nello specifico, il progetto Green Sport permetterà a 42 giovani di età compresa tra i 19 e i 35 anni di partecipare a percorsi formativi che verranno realizzati dagli operatori e operatrici dell'ufficio di piano che, grazie al capillare lavoro del Segretariato Sociale, conoscono a fondo il territorio e mantengono una relazione di prossimità con le comunità locali. Contributo importante sarà quello delle associazioni, a partire da Lega Ambiente e dalla DMC Costa dei Trabocchi, che metterà a sistema la rete di informazione d'accoglienza turistica della Costa dei Trabocchi con l'entroterra vastese, creando di fatto un primo sistema di sportelli in rete che supporterà ben 30 comuni. Sono due progetti per noi importanti perché ci aiutano a costruire dal basso del territorio un percorso di partecipazione su due tematiche importanti. Da un lato, diciamo, la valorizzazione ambientale e dall'altro il tema della digitalizzazione collegato poi a un fenomeno importante, soprattutto per la Costa dei Trabocchi, che è appunto il turismo sostenibile e accessibile. È un ruolo esercitato dalla Lega Ambiente che va nella direzione di accompagnare quella seconda fase di coinvolgimento che è partita dalla Costa dei Trabocchi, quindi dalla Via Verde, e adesso appunto a mettere a sistema l'intero territorio partendo dai giovani. L'elemento forte è che queste due progettazioni cadono nel mondo della scuola e dei giovani, coinvolti appunto nel costruire il nuovo futuro di quel territorio che parla di sostenibilità e di accessibilità.